Mi ha molto interessato l'intervento di Maran e naturalmente anche le domande che sono conseguite. Mi aiuto con la domanda posta da ultimo dal consigliere d'amministrazione di questo pezzo di giacimento indiscutibile di proprietà pubblica. Allora, l'intervento di Maran, che insomma costituisce un'ossatura rispetto a questa bella sessione, sostanzialmente ci invita a razionalizzare qual è la nuova situazione dei fatti, il nuovo stato dell'arte. Prendiamo atto che è cambiato tutto, è cambiato quello che ci si può aspettare dallo Stato, e è cambiata la consistenza anche della potenza finanziaria dello Stato. C'è un contesto internazionale, insomma è stato assolutamente chiaro. Io quello che vorrei, diciamo, inframmettere e infiorettare è questo contributo che mi aiuta a rispondere anche a pezzi delle domande che ci sono state che mi hanno riguardato. Il welfare, per il come l'abbiamo conosciuto, che sta a dire condizione di benessere di cui si è fatto carico lo Stato, del welfare non possiamo fare il meno. Magari possiamo ripensare quanto costa e chi lo produce, ma noi, al livello di civiltà cui siamo pervenuti, noi non possiamo riduciare. Noi possiamo ammodernare, riformare, modificare il quanto costa e il chi lo produce. Faccio un esempio concreto. Nel 1960 Adriano Olivetti, coraggiosamente da Ulisse, concepì un modello, nella sua isoletta, di welfare community. Dopo 50 anni ci sono tanti Adriano Olivetti che fanno questo. Il gruppo Procter & Gable, frattino gruppo Fater, frattino gruppo, Egidio Angelini, Francesco, pagano, che è successo, è un facilitatore, ma noi non possiamo rinunciare, diciamo, a mordere, a fare in modo che si producano nuove idee, che producano nuove frontiere. E di questo la politica si dovrà ancora fare carico, alla condizione che la politica sia capace di animare il discorso pubblico, come si diceva ancora. Cioè, qui c'è tutta un'interruzione e tutta un'intervittenza. Per fortuna che Maran è bravo. Ma non è che c'è un meccanismo che ce lo costruisce bravo, ce lo confeziona bravo, che non c'è più niente. Maran laicamente dice io prendo atto anche di questo che non c'è più niente. Non mi posso più aspettare grandi partiti o partiti organizzati. Io però non vorrei rinunciare a questa grande semenza di cui la democrazia ha bisogno. Perché altrimenti arrivano i casuali, gli occasionali, arrivano i comici, arrivano quelli che dicono ma forse è la volta mia. Ci sono anche tra le persone normali le aspettative super egoistiche ma forse è la volta mia. A Pescara ci sono due avvocati, anzi due e mezzo, che stanno in continua presa rispetto alla rete per cercare di capire quale fatto nuovo viene confezionata la politica e quale di questi fatti nuovi può essere cavallicato. Ieri ho saputo che un avvocato che ha avuto già quattro vite politiche oggi sta cercando di muovere all'attacco di Italia Futura per dire se la politica nella sua tradizionalità ma esiste anche questo. Esiste anche questo. Se la politica non si riatrezza e non si organizza, non seleziona quello che è possibile anche favorendo occasioni di dibattito pubblico una volta nel tempo dei giganti si diceva che la pubblica opinione è una risorsa fondamentale alla città al pari della risorsa energetica la pubblica opinione. Ma chi la favolisce la pubblica opinione? Una volta c'erano gli intellettuali c'erano spazi importanti anche della stampa c'era l'università c'erano le circostanze che favorivano il metodo critico tutto questo va ricreato io non sono disposto a rinunciarci per esempio con un gruppo di amici di buona volontà ho animato, sto animando un'esperienza che si chiama Scuola di Regione perché noi abbiamo scritto in Italia una pagina fallimentare di regionalismo e non è questa un'opinione diciamo alla fassina è una verità perché noi nel 2001 abbiamo fatto esplodere i poteri spostati sulle regioni e poi ci siamo accorti che questi poteri pervenuti nelle regioni non vengono usati perché non si sa usarli non si sa che farne perché noi abbiamo dislocato o dei ballerini in molte regioni italiane tipo la vicenda laziale ma non è soltanto dell'Azio o dei girovaghi sono prevalenti in tutta la regione o dei girovaghi oppure abbiamo anche prodotto diciamo degli impediti fotocopiatori impediti trovate in una norma che riguardi il patrimonio infrastrutturale di cui allo spostamento alle regioni della competenza normativa ma anche financo il credito è di competenza della legislazione concorrente non c'è nulla su questo fronte io ho aperto il bisogno di formazione di dibattimento politico di dimensione politica certo Alessandro tu hai omesso per ragione di sintesi di citare un altro elemento che si è strapazzato con la crisi e con il cambiamento il tempo la categoria è cambiata la categoria del tempo io vengo da un'Italia nella quale si trascorrevano 4 ore al giorno in sezione lì c'è il presidente merito della provincia di Campobasso una storica provincia ha fatto il consiglio regionale ha fatto l'amministratore locale credo che anche lui abbia fatto parte di una comunità di persone che dedicava molto tempo alla vicenda politica 4 ore al giorno 5 ore al giorno oggi non c'è più questo ma questo non significa che ci rende possibile la rinuncia alla dimensione politica o alla politicità questo confronto ripetuto che ci fa scovare quali sono le questioni e le possibili soluzioni io questo non lo vedo più esiste la logica della folla e del tentativo accusatorio sulle questioni ho seguito dei dibattiti su questa vicenda delle province che è meno che in lamentazione cioè non c'è più neanche la pazienza di prendere le misure delle questioni so di riunioni che si fanno di compagnie di prossimità di Grillo perché sanno che c'è una densità di spazio pulito da agguantare parlano del porto come se fosse una festa di incipriati da organizzare non c'è nulla di nulla e a questo noi dobbiamo rimediare dando luogo al discorso pubblico concluso mi piacerebbe se tutti quanti insieme potessimo riflettere su qual è la questione delle questioni Alessandro io continuo a pensare che la questione delle questioni per essere diciamo attento lettore di Silo Slabini ma anche di Giulio Sapelli che mi piacerebbe che venisse ascoltato o convocato la questione delle questioni è la ripresa della vita imprenditoriale della natalità imprenditoriale nella mia regione che è quella che si ospita l'anno scorso sono state prodotte 1720 brevetti è possibile che non ci sta nessun vabbè voglio usare un'espressione un po' volgare è possibile che non c'è nessun incaricato di funzioni del ministero dello sviluppo economico che accoglie come un grembo materno quelle 1720 invenzioni e cerca di trasferirle o di trasformarle in obbifici della tradizionale o nuova economia è possibile che non possiamo concepire anche a funzione rimpicciolita dello Stato uno Stato che faccia il canguro nei confronti della nuova iniziativa economica perché di qui ricomincia il circuito economico insomma io non mi rassegno al fatto che 72.000 manchevoli di lavoro in Abruzzo sono gli stessi dal 92 periodizziamo la storia politica rispetto a questa categoria io credo che sia possibile la condizione che su un fatto solo imitiamo la prima coppia Tremonti e Berlusconi ristabiliamo un clima di fiducia e di alleanza con l'impresa appena arrivarono Berlusconi e Tremonti se per stabilire Nicola un clima di fiducia e di entusiasmo col mondo dell'impresa noi questa partita la dobbiamo agguantare a tutti i livelli della figliere istituzionale perché se riparte questa vicenda qui io credo che non accadrà più che l'architetto Cilli professore all'università di Pescara oggi è venuto a piangere da me perché non ha i soldi per campare questo è un architetto 110 lode specializzato docente alla facoltà di architettura di Pescara non ha i soldi per campare perché non ha il luogo dove collocare questa sua bravura io mi rifiuto di pensare che questo non si possa modificare disponendo del potere pubblico alla condizione che però il potere venga usato tra le riforme che devono essere fatte Alessandro noi dobbiamo collocare al primo posto una riforma che costruisca una dimensione è amicale tra la pubblica e l'impresa ma amicale davvero te la dico e concludo la dico anche al professore visto che questo è un corso di comunicazione politica di sociologia politica riferita anche a questo riempimento di vuoto che c'è tra la dimensione della politica e quelli che stanno dall'altra parte io credo che sia possibile costruire una pubblica amministrazione che chiama a casa una funzione nella Silicon Valley la pubblica amministrazione ti viene a prendere a casa noi abbiamo qui nelle nostre parti un certo Zappacosta Pierluigi che ha inventato il mouse che viene dato un miliardario poi ha fatto qualche errore in volontaria investendo in Abruzzo ma speriamo che ricominci il destino negli Stati Uniti lui ha potuto contare su una pubblica amministrazione che si è disposta come un grembo materno nei confronti della sua idea lo chiamava a casa lo inseguiva a casa questa cosa qui che è un fatto preciso si può mettere in alto nella gesta nel quadro di tutta la complessità che tu hai descritto e che mi ha convinto e di cui ho preso anche appunto io però su questo farei quello che un grande ministro abruzzese sempre fare rispetto ad una stagione importante che è stata la stagione dal 70 a fine anni oltre 1970 e 1980 dopo che due decenni hanno visto Gaspari essere una grande figura qui certo era un'Italia pre-europea ma lasciando stare la quantità di risorse finanziarie lui sulla risorsa potere fu inappuntabile tant'è che Sergio Zoppi del Fornitz e 40 l'attuale presidente della corte costituzionale ne hanno parlato come di uno dei migliori decisori pubblici perché lui era una funzione dell'obiettivo dell'impresa e noi abbiamo avuto un industrialismo diffuso frutto anche di quella intuizione di quella stagione vedete questo crea fiducia crea partecipazione politica crea il fatto insomma che un territorio possa essere il luogo dove si realizza il progetto di vita di ciascuno arrivano le università qui e facciamo i conti tutti insieme con questa nuova frontiera ma l'idea che tanto non si può fare nulla che alberga ogni tanto anche nelle nostre regioni politiche tanto nulla si può cambiare nulla si può fare io ho avuto un collega che faceva il ministro regionale di un settore importante come era la salita lui cercava di convincere che non si può fare nulla che la quantità della resistenza è tale tanto non si può fare nulla io mi ribello a questo ma non dal punto di vista politicista perché abbiamo potuto cambiare molte cose per circa un ventennio in un'importante zona della provincia di terra tra l'altra retta da un diessimo che era Claudio Ruffini c'era molto di più della disoccupazione zero a Montonego se la disoccupazione zero diciamo è un indicatore numerico economico cioè lui aveva sprofondato questo zero c'era l'inseguimento della forza lavoro per allocarla negli obbifici del suo territorio perché lui aveva interpretato la funzione amministrativa come una funzione funzione non una funzione antitetica contundente disinteressata e guardate questa idea è nutrita dalla politica non è un concorso che ti struttura così non è un concorso ti struttura così quel supplemento di motivazione che ti viene dalla politica e ce ne sono in giro in Italia e ce ne sono io ho conosciuto dei giganti ho conosciuto un direttore generale all'industria si chiamava Ammassari se qualcuno di voi ripesca nella storia passata lo trova tu che hai fatto il sindacalista tu ma anche Nicola che ha fatto il sindacalista prima sa che cosa è stato lui lui intuì Umberto Ammassari straordinario ecco io penso che diventi e concludo professore non si preoccupi diventa alla fine questo anche motivazione per il bene fare nella dimensione lavorativa rendersi fondamentali sapendo che il tempo è cambiato ma insomma riempire di contenuto la funzione che ti viene affidata tra le mani io cerco non di rispondere ma di ragionare con chi ha posto due quesiti che Luciano non abbia affrontato ma non hanno affrontato altri il primo la politica il centro-sinistra il mio partito se nel fatto i conti con la propria storia fatto di errore secondo me no ma dire questo non risolve il problema io penso che ci sia stato nell'avvento di Berlusconi che come diceva l'onorevole non era la causa ma l'effetto di un periodo ci sono state tante con cause però che hanno fatto diventare quel fenomeno come un fenomeno credibile a tal punto che la maggior parte la maggioranza degli italiani lo abbiano sostenuto fino a con l'abbaglio di forze tradizionalmente solide idealmente solide quelle del cattolicesimo democratico che lo sostenderono in vent'anni se pensi se fai la fotografia della storia la fotografia di quando Berlusconi scende in campo a fianco a Cassini e Fini fai la storia alla conclusione del mandato come i suoi peggiori avversari ci aveva proprio i due che non le incitimano da un punto di vista politico non lo sto dicendo in termini di critica sto cercando di fare una fotografia perché dopo tutto quello che accadde si pensò lo diceva bene il professore parlo di Tangentopoli che era arrivata naturalmente l'ora di coloro i quali stavano all'opposizione non fu così perché a un certo punto il giudizio della storia ti agguanta ma non soltanto a chi esercita la funzione di comando ma anche a chi esercita la funzione di controllo o di elaborazione di un'alternativa che doveva fare con un'opposizione credibile in un tempo lungo che nel momento in cui gli eserrava la possibilità diventare alternativa vera di governo ce l'abbiamo se ci pensi non è accaduto neanche adesso concluso diciamo Berlusconi si va al governo tecnico per ragione di responsabilità nazionale internazionale ma anche a mio giudizio per assicienza tutta politica politica perché lì non si è fatta perché non era la risposta immediata a tutto ciò che non andava a quello che c'era in campo nel campo dell'opposizione se c'è un'innovazione politica da accreditare al mio partito ma come ogni innovazione poi fa paura all'esercizio di quell'innovazione sono state le primarie perché a un certo punto si è compreso il classe dirigente c'è un modello il partito del tesserato e il partito della gente si è discusso tanto penso di aver affrontato anche voi le nostre riflessioni politica liquida politica dura partito liquido partito forte non è più il tempo delle adesioni degli iscritti ad un partito di un'organizzazione politica quello è un pezzo per cercare di tenere legato il partito e per essere meno partito in quanto parte più capace di reagire si è pensato a delle iniezioni tra diciamo la formula tradizionale del partito dell'organizzazione degli iscritti gli organismi e quella che invece è il fluttuare dei pensieri delle idee della gente queste due cose spesso vanno in conflitto perché da un lato c'è il microcosmo che ha la propria realtà dall'altro c'è il macrocosmo che è la realtà invece la verità e quando il microcosmo e il macrocosmo vanno in conflitto quando il microcosmo per rispondere non è capace di ascoltare il macrocosmo allora io forse mi sono espressa male volevo chiarire anche prima il discorso è che io non trovo la continuità quello che mi fa paura di non avere la continuità il pensare che debba esistere ancora una militanza il pensare che i nuovi mezzi di comunicazione siano un modo per per calunniare alle volte per sottolineare solo il marzo il pensare che forse probabilmente il popolo nel frattempo ha avuto modo di istruirsi che sono cambiate le cose che non è più una società di massa ma che è qualcosa in più quella continuità no 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 ma ma è anticipato voglio dire proprio questo cioè quando parliamo di ascolto volevo dire non era una non è una gentile concessione che il microcosmo fa il macrocosmo quello che vuole esattamente la capacità di essere macrocosmo questo come lo si ottiene però pensateci un attimo entrate nelle vesti di chi dirige un partito di vista in un partito di chi deve fare classe di legge come lo si organizza il modello partito che non sia una finzione che non sia qualcosa che ogni giorno viene messo in discussione perché c'è anche questo problema bisogna dare una prospettiva e allo stesso tempo sia capace di essere penetrato di tutto ciò che accade di saperlo leggere e rispetto a quello che accade si legge e esprimere una migliore classe dirigente questo è il tema che abbiamo già affrontato prima e si fa l'esegesi nel periodo del pc però prima era un altro mondo e era non più facile come dicono coloro che vogliono semplificare fare politica per la classe dirigente perché le cose andavano bene nell'economia però era veramente un altro mondo come dici tu c'era un po' la massa a cui bastava la riunione del circolo la riunione della sezione che apriva la serranda nel mio paese ogni volta che c'erano le lezioni quella serranda chiudeva se la riparlava alle prossime lezioni e da lì allora c'era non la mobilità politica c'erano i gruppi diciamo fermi lì arradicate quelle posizioni io mi ricordo che avevo 12-13-14 anni andavo con mio padre da lì la malattia venivano sempre le stesse due persone il senatore De Cinque è l'avvocato di Anaglia di Orzogna io ci avevo affiato un 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 mangiadischi proprio un mangiadischi che si insegueva e a un certo punto mi faceva accenno il segretario di sezione io premevo in il distrito la brucia con la canzone il piano fuori il piano fuori si stringeva come mai contro i diritti cipi adesso stringeva stringeva le mani diceva che il nemico stava di là e che noi stavamo di qua tutti si sentivano legati all'idea del nemico all'idea dell'amico e quindi quella era la comunicazione politica una scena per lì una scena dopodiché molti di noi sono stati sono rimasti legati a quel tempo ma non a quel tempo del mangiadischi a quel tempo di quelle verità concludi quelle verità io mi riferisco soprattutto al mio campo dove oggi si è aperto un dibattito vero contro il PD che secondo me sarà foriero di problemi o comunque di un ripensamento di un chiarimento che non sono le primarie attraverze e versate ma solo quello che accadrà al secondo tempo del PD dopo le primarie dopo le elezioni politiche ci sarà sicuramente un domo conversato o va a fare presente il consiglio e quel secondo tempo mi spaventa più del primo perché se lo immagino come capace di mantenere fede alla promessa originaria superiamo le scialupe che ci avevano le spalle i design neologici e cerchiamo di capire cos'è la società l'Alfonso una volta disse il PD nasce perché gli occhiali che c'avevano il DS e gli occhiali che c'avevano la Margherita il partito fondatore non la vedevano più non la leggevano più la società era necessario un altro paio di occhiali quell'altro paio di occhiali ora il partito democratico se pensa che non non se ne è voluti mai mettere e pensa che forse era meglio un occhiale precedente cioè una supposta riedizione di un piano moderne come ho detto prima di un'impostazione socialdemocratica che non funziona non serve non è attuale la socialdemocrazia io penso che che abbia fallito quel tentativo vero unico di innovazione tecnologica dopo di quello anche gli altri partiti si stanno parlando il problema delle primarie dopo di quell'esperienza anche gli altri partiti si sono fusi se guardiamo la storia da un punto di vista storico la storia è fatta sempre da scissione dei partiti PC PSI PSD nascono da scissione continua di partiti precedenti hanno dato luogo a vita ad altri partiti l'unico partito che ha aggregato teoricamente e per oggi resiste è stato il PD a cui è seguito il PDN però queste fusioni a freddo perché non che non avevano sul strato vero ma erano frutte del momento frutto del momento anche della convenienza di dire che eravamo diversi ha generato appunto un partito che o dei partiti che oggi non funzionano esattamente bene ma l'alternativa concludo non è può essere solo la protesta perché la protesta una volta che diventa governo parma e io che sono come voi curioso anche perché l'età non è molto distanza cioè non ho edificati dentro di me le certezze vado alla cronaca di parma su internet vado a vedere che cosa accade il dibattito locale di parma cosa che non tradice il Corriere della Sera perché gli va bene che si sappia che l'antipolitica va meglio della politica e allora se andate a vedere divertitevi qualche giorno su internet a vedere che cosa accade a Parma la nuova amministrazione fatta sui curriculum per internet vi rendete conto che le cose non stanno funzionando che c'è un grandissimo dissenso non dico che sarà sempre così quello è un caso ma studiamolo per capire che c'è una mediazione tra il nuovo e il nuovismo che c'è una differenza tra il nuovo e il nuovismo e il nuovo io credo che nasca necessariamente dalla consapevolezza di ciò che sta di ciò che funziona e di ciò che non deve essere scusi posso però voglio dire diciamo una piccola annotazione però fare l'esempio Parma quando un giorno si e l'altro pure nei maggiori partiti politici emergono scandali inenarrabili mi sembra una esagerazione vuol dire siccome la gente viene scelta con i curriculum per internet come per dire è un esperimento così io voglio dire continuare ad attaccare determinate formazioni politiche che si propongono come alternative non come antipolitica secondo me è un favore a queste formazioni politiche perché perdona che vedo il mio ragione con un'altra no però quello che emerge è questo prima si diceva l'antipolitica mette a rischio la democrazia parole così non è secondo me non è voglio dire non si può rispondere a questa partecipazione della gente dicendo solo che è una cosa che andrà a finire male che comunque sono persone non esperte perché la realtà mostra che queste persone tra virgolette esperte molto spesso sono persone che fanno i propri interessi cioè tradotto prendono soldi e ne fanno e li gestiscono improprio e io parlo di centro di destra e di sinistra purtroppo la realtà dei cittadini che legge sul giornale che guarda la televisione adesso magari in una forma anche estremizzata in una forma anche come dire populistica ma la realtà è questa cioè non è che la gente si alza la mattina e si inventa situazioni la gente legge questo e si chiede ma se un politico di professione non è capace nonostante abbia il partito nonostante abbia una tradizione lunghissima e una persona di Parma ha delle idee che poi naturalmente avrà delle difficoltà a mettere in pratica anche per tutta l'eredità che le consegue ma per quale motivo chiudere le porte a questo tipo di alternanza è l'espressione di un disagio ma il dottor D'Alessandro non diceva quello che lei sta interpretando ma come l'espressione di un disagio legittimo a me vale quello che tu dici con un consiglio non con un'altra però sia chiaro io non rimango inerme fermo di fronte all'antipolitica io credo che la politica la batte l'antipolitica è chiaro e tutto ciò che è antipolitica non è che l'antipolitica ha il diritto della critica la politica la politica non ha il diritto della critica è chiaro e sono tra quelli per esempio che di fronte alla demagogia al populismo alcuni tratti del tuo intervento sono stati anche orientati a questo perché guarda quando tu dici sono tutti centrodestra centrosinistra tutti politici riguarda tutti politici di professione che significa politica di professione uno che ha fatto 5 anni 10 anni bene il proprio mestiere o non l'ha fatto bene un politico di professione il politico di professione è quello che non fa nulla nella vita e fa solo la politica allora se tu lo vai avere veramente un altro luogo comune utilizzato dall'antipolitica per derivare tutta la politica non è esattamente così però io non voglio come due parti con la te però mi farei mi piace se puoi ci fermiamo un parco no no diventa però diventa un problema se tutti esprimiamo il nostro disagio siamo in barata quando nasce l'arte politica perché la politica non agisce non decide per cui nasce questo è benvenuto per i tecnici e se la politica non è bravo decidere di determinare allora io faccio due flash perché ho stato chiamato in causa dal signore esatto poi anche in parte dalla dottoressa per quanto riguarda il problema della crisi della politica o crisi della classe politica o crisi del politico c'è qualcosa in crisi cercherò di rispondere su due piani c'è una crisi della politica a livello globale in tutti i paesi del mondo la politica viene attaccata in quanto tale pensiamo a cosa è successo a Barack Obama la mobilitazione che ha avuto contro è una mobilitazione che possiamo interpretare perché c'è questa crisi della politica è molto semplice la politica democratica a livello più globale nel mondo ha problema tremendo con il meccanismo del consenso problema tremendo perché ha problemi con il meccanismo del consenso perché il consenso non è più un consenso dato da appartenenza ideologico eccetera ma è un consenso dato a spot a me serve questo me lo dai ma se mi dai questo e mi dici anche che sei favorevole ai matrimoni tra omosessuali io questo lo prendo ma questo lo respingo quindi io il voto te lo posso dare ma te lo posso dare ed è un problema tremendo perché questo cortocircuito tra politica e consenso crea una crisi generale per cui la stessa partecipazione è partecipazione su temi specifici io partecipo sui temi che mi interessano non partecipo su altri temi e quindi c'è una visione di insieme che si sta disgregando e qui poi si possono essere risposte istituzionali varie cose quindi c'è una crisi della politica velo globale in Italia a questo si accompagna e questo è meno forte in altri paesi del mondo una crisi della classe politica senza su questo non ci sono dici e sono quasi detto molto il perché della crisi della classe politica italiana quindi non spendo qualche parola sarebbe ridonnante rispetto a quanto detto in maniera un modo autorevole allora penso che il problema che la dottoressa Cipito abbia posto è un problema di questo tipo la dottoressa Cipito anche a livello generazionale esprime la voce di chi è fuori dai processi di intermediazione e non c'entrerà mai è un augurio chi è fuori dai processi di intermediazione si pone in maniera diversa rispetto alla tradizionale politica italiana cioè la dottoressa Cipito non chiederà nella sua generazione non chiederanno dei favori ma non perché sono moralmente migliori può darsi ma perché è impossibile come chiedere che la fata Turchina appaia e ci regali le zucchero qualcosa di assolutamente sostenibile la dottoressa Cipito chiederà dei diritti chiederà delle opportunità ma soprattutto chiederà allo Stato di ritirarsi e di non impedirle di fare questa quindi se vorrà aprire un'associazione o un'impresa non vorrà che debba pagare qualcuno perché o gli arriva la guardia di finanza e gli dice si può fare ma anche no non è successo per l'estudente personale si può fare ma anche no si può fare o non si può fare si può fare ma anche no questo è l'Italia poi ci vediamo con me le imprese ma io sono un amico di un sindaco sindaco di Barcellona storico Pasquale Maragai il quale sopra di sé ha scritto qui si può fare poi si vede come capiamo abbiamo il punto di vista e siamo in cattività siamo non siamo in cattività nel 92 nel 92 e quindi l'ascolto io penso io penso che Alessandro possa finire si che vi dico sono un paio di domande che c'erano state sì la questione dell'estropa io l'ho evocata semplicemente per indicare il processo di transizione non caratteri specifici o la misura specifica che riguarda l'unità economica no ma l'uscita da quei ergi è stata un'uscita caotica poi ogni paese ha avuto un percorso proprio ma la lunghezza della transizione alcuni problemi sono in realtà conseguenti a un'estinzione così grande del lavoro pubblico le funzioni che ha avuto hanno ovviamente qualche elemento di soviglianza con la nostra lunga transizione non è caso io vi ho consigliato all'inizio dà un occhio visto che l'anno ripubblicato l'epoca di Gaffaglia perché tutti gli elementi della crisi che lui aveva individuato nel 92 sono gli stessi e danno l'idea di una di una difficile via riuscita per le ragioni che abbiamo discusso sulle questioni in realtà che riguardano poi la riduzione dell'apparato il fondo comunitario internazionale può allora venisse interpellato da noi una richiesta d'aiuto imporrebbe il legnezzamento degli elementi pubblici per capirci dove siamo arrivati misura peraltro che per confronto in la Grecia ha avuto un impatto anato il nostro problema è anche quello di lavorare di più è vero nel senso che vogliamo lavorare a più persone noi siamo il paese che ha il più alto tasso di risultazione generale la più bassa partecipazione delle donne del mercato del lavoro è il più alto umore più generale e c'è una cosa che non va l'altro elemento riguarda la produttività perché il nostro lavoro deve riuscire a avere una produttività produttività maggiore che sono le cose che ci siamo detti sull'unizione di intraprendere di nuovo qui lo Stato nella regolamentazione dei servizi eccetera ad esempio le cose che diceva Luciano l'alleanza con le imprese è uno degli elementi decisivi tenete conto io lo vedo dalla mia ragione che è da questo punto di vista fortunata però presenta il problema anche qui a che vedere con una mitologia che abbiamo a lungo accalizzato come quella dei piccoli comuni piccolo e bello non è vero che le imprese piccole sono una risorsa e le imprese così come le abbiamo conosciute piccole così come le abbiamo conosciute possono essere ancora a leva del nostro sviluppo noi abbiamo un enorme problema dalle mie parti perché il passaggio dal creatore dell'impresa al figlio è tecnicamente impossibile perché il figlio non ha il talento del padre necessariamente ha avuto la fortuna di girare con la Porsche con la vernice e camille quindi la possibilità di riprodurre quel successo con una dimensione con un piccolo dimensionale è così senza contare che piccole dimensioni significa piccola spesa ricerca quando non è nulla impossibilità di raggiungere le cose che rischiamo di condannare quel modello che è stato un modello di successo negli anni primi in ottanta hanno il successo e quindi l'alleanza è ancora un problema decisivo anche in Germania ci sono piccole imprese ma la quota di medie imprese in grado di penetrare i mercati è enorme e soprattutto se comparata all'esperienza italiana dico un paio di cose ancora improntate all'ottimismo perché insomma io continuo a dire abbiamo problemi ma siamo sempre per quanto sgomentando tra i primi otto paesi del mondo quindi abbiamo anche la possibilità di affrontare i problemi di risolverli solo che li si guardi negli occhi e non si cerchi di buttare la polvere sotto il tappeto il curabile problema di questo ventennio che abbiamo perduto è che abbiamo lungo cercato di buttare la polvere sotto il tappeto il perché e qui vengo alla questione che è stata posta antipolitica ad esempio io ritengo che tutto questo discorso antipolitica sia una perdita di tempo se c'è un successo sempre che il nostro paese è registrato è stato quello della capacità di integrare tutto cioè noi siamo riusciti a integrare nel sistema politico fratture che sono più profonde che quello che è il paese del nord Europa perché guardate che le divisioni territoriali la convivenza basta pensare al piano del sud è un problema serissimo nel nostro paese ma il conflitto è un paese molto flamentato la flamentazione è forse una vera cifra e che oggi non riusciamo a ricomporre perché non c'è più la dimensione ideologica che tutto compone quindi noi siamo un paese in cui le fratture stanno emergendo e non sono solo quelle del sud laici cattolici giudici avvocati sono per esempio è interminabile che rendono difficile il processo di decisione pubblica nel senso di un processo elaborato collettivamente però il nostro paese è riuscito in questi anni in questi anni tutto dopo guerra ad assorbire fratture profondissime lo dico io che vengo da coprire l'Italia mio nonno combatteva con gli austriaci conti in Italia non è mica scontato che tutta l'area del confine orientale fosse integrata nella compagine italiana come è avvenuto nonostante lì il conflitto ideologico dopo la seconda quella mondiale fosse ancora più acuto non è mica così scontato che tutte le popolazioni da quelle altrodesine la vicenda stessa dell'integrazione delle regioni meridionali all'interno di una compagine che insomma ha il profilo ormai di un grande paese industrializzato avesse un esito per quanto ancora insoddisfacente ma insomma un esito tutto sommario sono positiva quindi la capacità di colmare quelle fratture è il tratto che io riconosco principale della democrazia italiana e quindi con un po' di fortuna quelle fratture possono essere proprio integrate una dimensione istituzionale ben venga il governo del Panna ben venga il gruppo parlamentare di Grillo e naturalmente e dopo lo dico con una condizione la condizione che gli italiani devono smetterla di pensare che Berlusconi governano per vent'anni ma è venuto la Marte non è venuto la Marte lo hanno letto il punto di tagliare qui c'è una commissione che va recuperata e ha a che fare anche con l'ascolto siccome noi non possiamo più ripetere l'esperienza che c'è alle spalle una volta ci si faceva cittadini nel partito del partito perché non si poteva essere fino in fondo dello Stato e non Stato i partiti sono partiti di integrazione servono a integrare quelle fratture oggi che l'ideologia l'appartenenza la visione alla morale del partito non ci sono più è evidente che noi dobbiamo puntare sull'esercizio della cittadinanza dello Stato che vuol dire la responsabilità della scelta esercizio della scelta e responsabilità della scelta abbiamo introdotto non solo le primarie le elezioni del sindaco che si andano a provincia e alla fine di fatto l'assetto della nostra Repubblica e la segretà non sono le più presidenziali questo però implica una maggiore responsabilità dei cittadini e traduco e faccio una battuta significa che se la scuola non funziona o è sporca si fa come gli Stati Uniti non si serve e si la va a dipingere non si aspetta l'intervento dello Stato perché se così fosse torniamo a quello Stato impasivo di prima a quello di quattro volumi perché se qualunque aspetto della vita associata dipende da una linea di finanziamento pubblico non c'è anzi non è il finanziamento pubblico c'è tratta non c'è la possibilità di organizzare una società più autonoma e dipende anche dal fatto di poterla realizzare una società più responsabile lo diceva Fironciano l'esperienza nelle regioni è stata insoddisfacente anche perché noi abbiamo sommato all'esperienza tradizionale nuovi poteri senza risorse sanità se il bilancio della sanità viene ricoperto dallo Stato a qualunque cosa succeda è evidente che lì la non sta ai piedi a baracca e questo è uno secondo me uno dei cambiamenti decisivi perché ha a che fare con il passaggio dell'età punta tenete conto che in fondo per come la vedo io lo stesso Berlusconi è stato il tentativo di rispondere di nuovo con un accaduto che si è chiamato un uomo da provvidenza ci pensa lui perché devo tormentarmi perché devo preoccuparmi del mio spazio civico nella dimensione e lui che faccia vedremo da un po' la cosa non funziona perché nessun problema è nella disponibilità di un unico decisore in una società come questa non sta più nelle nostre possibilità avete visto tanto per fare una battuta perfino a tappo si può fare nonostante tutti l'abbiamo condivisa alla fine noi abbiamo un battaglione di radinieri che sta lì a proteggere le macchine dell'impresa giudicataria non è soltanto uno degli evidenti problemi quindi dimostrazioni del nostro ritardo culturale è anche una delle la dimostrazione che decisioni che tutte le create all'alto non funzionano altro esempio terribile nonostante tutti gli escamotage legislativi alla fine le immondizie da Napoli vanno in Norvegia che è una roba che dovrebbe gridare vendetta agli occhi di tutti noi e che dimostra di un'incapacità decisionale che però non ha che fare soltanto con il libero nazionale ma anche con una comunità che non è in grado di assumere quindi la responsabilità di decisioni collettive e faccio solo una battuta perché mi ricordo un'altra domanda dico questa sul governo Monti e un'altra cosa che metterà il governo Monti suddirò una cosa che forse non è così gradita però tenete conto che il governo Monti è la versione italiana della grande coalizione non è il governo dei tecnici come tutti i giornali raccontano per comodità e perché e perché ogni tanto bisogna approfondire le mie cose il governo Monti è il tentativo che peraltro Napolitano ha dichiarato esplicitamente di costruire la condivisione da parte delle forze politiche più larga possibile su alcune scelte dalle quali dipendeva il futuro del paese e lui giustamente ha detto una grande verità che però non è così ancora chiara a tutti noi che l'Italia non potrà ritrovare la propria strada in un clima da guerra civile permanente quello che ha impedito le decisioni è un rapporto un po' più come dire non dico collaborativo ma anche di crescita reciproca con l'opinione pubblica anche stata l'idea che il campo d'Italia fosse diviso in due schieramenti lungo tra l'altro armati qualunque cosa venisse da una parte all'altra senza altro da respingere non ci fosse possibilità di comunicare e che quindi l'avversario era il nemico adesso Berlusconi a tutti i difetti di questo mondo ma noi non possiamo pensare di isolare il problema dell'Italia pensando che dall'altra parte c'è il nemico il malvagio il cattivo e da questa parte ci sono questo io credo che se si riesce con questa esperienza che poi siccome siamo fatti come siamo fatti non siamo riusciti a portare un termine fino in fondo nel senso che negli altri paesi sarebbe fatto la città di coalizione e condivisi i ministri da noi siccome non si poteva mettere insieme la russa con D'Alema perché poi gli nomi sarebbero stati sempre quelli siccome si è ricorso esclusivamente ai tecnici vi ricorderete che c'è stato il dibattito tanto che molti voleva qualche politico mandateci qualcuno e questo spiega anche molte le difficoltà perché i tecnici tra l'altro sono tutte benissime persone però se è vero quello che ci siamo detti prima che la trasformazione dello Stato è uno dei modi cruciali sono un pezzo del problema e non una soluzione perché se abbiamo messo all'interno il prefetto secondo voi chiudiamo le prefetture? no dopodiché le prefetture secondo me vanno chiuse qualcuno mi deve ancora spiegare che cosa ci fa in una ragione sociale con la mia dove addirittura le elezioni il conto delle schede viene fatto dalla regione che cosa ci fa 4 prefetti e un commissario questo è un mistero che vanno naturalmente a inaugurare ormai in Italia in Anastica o qualunque cosa che non c'è niente da fare ma per dire più in là noi abbiamo il ministro della difesa che è un ammiraglio noi abbiamo 40.500 esubili nelle forze barri perché avevamo un esercito che dobbiamo soppare tra terra tanto la guerra facevano gli americani adesso che abbiamo un esercito che si impegna in settori complicati usiamo sempre 3-4 corpi sono quelli tutti gli altri sono una roba che non è possibile utilizzare combattendo questo dà la misura del cambiamento culturale negli atteggiamenti nel modo di pensare nel modo di lavorare che noi dobbiamo affrontare e la possibilità di farlo ricostruendo un tessuto unitario del paese la vera scommessa dobbiamo cominciare a pensare che io la metto così nel mondo di oggi ma qualcuno potenziale davvero che di fronte alla globalizzazione allo spostamento di poteri alla penulia energetica al problema dell'immigrazione noi abbiamo noi centrosinistra abbiamo tutte le risposte e gli altri dicono solo stupidagini ma non può essere è ragionevole pensare che ogni tanto loro diranno qualcosa che vada bene a ascoltare e viceversa quindi se noi riuscissimo a ricostruire questo terreno che poi io dico solo una cosa finale sul Mediterraneo è la condizione per una proiezione esterna noi possiamo proiettare all'esterno del nostro paese solo integrando le nostre cioè gestendo le nostre interdiferenze interne solo così è possibile una proiezione una proiezione collettiva perché noi abbiamo abbiamo un problema se non è già giusto non è più uno nel senso che noi abbiamo problemi antichi noi siamo il paese che è più esposto a due zone tradizionalmente instabili Balcana e Spombra sud del Mediterraneo cosa abbiamo fatto nel passato? per cercare di proteggerci abbiamo scommesso solo istituzioni sovranazionali Nato e Unione Europea cioè perfino prima ancora lo stesso asse disgraziato con la Germania era il tentativo di gestire le nostre collettivamente insomma una proiezione esterna e queste sono aree di debole assestamento dopo i disgraziati anni 90 i Balcani sono peggiorati sotto gli occhi di tutti è la situazione del Nord Africa quindi noi abbiamo necessità più di altri di trovare all'interno del nostro paese una coesione necessaria per poter affrontare sfide che diventeranno sempre più stringenti parlavo di quella energetica ma vale per l'immigrazione vale per la sicurezza il senso lato insomma noi abbiamo una posizione un po' più scomoda degli altri abbiamo qualche problema che è un po' più grande negli altri paesi europei con cui abbiamo confrontarci e oggi abbiamo la possibilità tolto di mezzo il caimano non c'è stato di ricostruire le relazioni interne portate alla soluzione dei problemi e di questo tipo per il centro-sinistra costruire un centro-sinistra che sia in grado di dare risposte alle domande degli italiani è una questione che secondo me noi dovremmo cercare di prendere grazie 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 grazie